Vado a lavorare, vado a lavorare, vado ad uno uo. Vado a lavorare, vado a lavorare, vado a lavorare. possono insultare, possono fare, secondo me non è una polizia, ma tanti giornali questo non lo diranno, non importa, io se c'è la polizia che ha un motivo di sofferenza e ce l'ha, sono pronto a metterci la faccia, l'importante è che voi sappiate che non c'è un atteggiamento di indifferenza verso quello che proponete, poi non tutto può essere, ma non c'è un atteggiamento di indifferenza. Abbiamo le macchine a ferma, abbiamo bisogno di un posto concludere immediato, uno sotto l'uomo e anche il sindaco Alemanno per il finale delle difficoltà che sono in fine passare, non c'è un atteggiamento di indifferenza, non ci risparmiamo minimamente per andare a dare risposta, non è che incoraggi questo tipo di questione, fanno bene quelli che non si avvicinano, spiegateglielo ai più furbi di quelli, fanno bene quelli che tirano dell'ordine, io la faccia ce la metto sempre, quando ci sono le forze dell'ordine io sto dalla parte con le forze dell'ordine e non me ne frega niente se c'è qualcuno che magari ha esasperato, insulta, sappiate che non c'è indifferenza, tutto quello che si può fare io lo faccio, di più non mi posso perdere. Un intervento immediato per Roma, subito. Grazie.